Agricoltura e nuove opportunità per i giovani è stato il tema dell'incontro tenutosi a Morano Calabro organizzato dalla Confederazione Nazionale Sindacale per Agricoltore e Produttori Italiani per presentare il progetto. Una sorta di convegno informativo sulle opportunità dei giovani in agricoltura e sul nuovo PSR. Ci rendiamo conto che questa può essere una valvola di sfogo per lenire il problema della disoccupazione e soprattutto ci rendiamo conto che è uno dei pochi settori in cui ancora oggi vale la pena fare impresa. Oggi non è più l'epoca del posto pubblico quindi dobbiamo darci da fare e perché no darci da fare in un settore in cui c'è la possibilità di sviluppo. Per l'altro il territorio del Pollino si presta ad essere sì un territorio mondano ma un territorio foriero di importante sviluppo agricolo. Obiettivo? Fornire una sostegna economica attraverso canali complementari a quello bancario alle nuove imprese condotte dai giovani sotto i 35 anni con caratteristiche spiccatamente innovative in termini di prodotti e di modello aziendale che dimostrino di saper generare cadute occupazionali. Ci sono giovani agricoltori che hanno già investito? Sì abbiamo piacevolmente registrato nello scorso PSR numerose pratiche finanziate dalla regione Calabria e che hanno creato nuovi imprenditori sulla piana di Campotenese ma anche sul nostro territorio moranese. Penso che questo possa essere da sprono per la partecipazione a questa nuova tornata del piano di sviluppo rurale. Diciamo che Morano è un comune montano e l'agricoltura su che cosa dovrebbe puntare? La storia ci insegna che Morano era uno dei paesi primari nella pastorizia quindi credo che debba puntare sulla pastorizia per poi creare i prodotti annessi alla pastorizia. Io credo che per Morano, per il nostro territorio e per tutto il territorio deve essere uno strumento che non ci deve sfuggire assolutamente perché è importante. È un grosso incentivo soprattutto per i giovani. Sì appunto l'ho detto anche nel mio intervento i tre punti fondamentali di questo PSR uno appunto è il cambio generazionale, l'altro è incentivare quei comuni dell'entroterra il terzo è incentivare al massimo la sinergia tra le varie aziende sul territorio. Oltre ai tecnici della Consapi erano presenti aziende agricole e associazioni di Morano Calabro a sostegno dei giovani agricoltori il consigliere regionale con delaga all'agricoltura Mauro Dacri. Questa sera ci troviamo qui a Morano, quindi un'aria interna, quindi possiamo parlare di aria interna e quindi di giovani. Noi come giunta regionale ci abbiamo puntato moltissimo sui giovani il Presidente Olivero ha fortemente voluto contare sui giovani e noi contiamo che in questa programmazione 2014-2020 in Calabria insediamo mille giovani in agricoltura e più oltre 200 in attività extra agricola. Per stare più vicini ai giovani abbiamo cercato di portare questo premio di primo insediamento in zone come sono interne che parliamo stasera a 50.000 euro o a fondo perduto più fino al 70% per quanto riguarda anche tutti gli investimenti. Quindi abbiamo alzato la liquida di contribuzione per far sì che il giovane può costruire la propria azienda.